Il bimotore Boeing 777, coinvolto nella tragedia di Malaysian Airlines, è uno dei più popolari velivoli di fabbricazione statunitense. Sul mercato dal 1995, questo modello di aereo gode di statistiche di tutto riguardo in materia di sicurezza. Costruito in diverse versioni, è stato anche il primo Boeing interamente progettato al computer. Per il resto, l'aereo ha rappresentato un buon successo commerciale, dopo 18 anni dall'avvio della produzione è uscito dalle linee il millesimo esemplare. Un incidente si è registrato nel 2013 all'aeroporto di San Francisco, quando per un atterraggio difettoso di un 777 di Malaysian Airlines morirono tre passeggeri e 180 rimasero feriti. L'inchiesta sull'incidente è ancora aperta, ma le ipotesi prevalenti ipotizzano un errore umano, piuttosto che un cedimento strutturale.